Ciao a tutti ragazzi e ragazze Allora, questo è un video dove vi faccio vedere le mie palette E comunque sono abbastanza Non tantissime, però abbastanza E ora ve ne devono arrivare altri Allora, questa è la prima palette Ha dei colori bellissimi Ed è di Sephora Della Sephora Collection Qui c'è praticamente come realizzare Un trucco I vari passaggi e quali ombretti utilizzare E' molto carina Soprattutto questi shimmer sono molto carini E ora ve ne sbuoccio uno Molto bello E questa è la prima Che è molto carina E ha degli ombretti molto pigmentati Poi c'è la seconda Che è questa, che si chiama Violet Tates E Shadow Palette Che anche questa è super bella E prevale il viola in questa palette Però c'è anche colori di transizione Come questi arancioni Come questi marroni E questi shimmer Perché sono tipo bellissimi Me ne fa sbuoccio anche di questa uno Ed è questo viola qui Super bello Anche questo Carinissima E hanno dei nomi Quell'altra ce li aveva Sì, non ve li ho fatti vedere Sì, allora si chiamavano Rosebab Petal Sunflower Orchid Deu Florist Non mi Uccidete perché non so parlare l'inglese Faccio schifo l'inglese Però Blackberry Violet Rosi Champagne Beige Taput Mirage Lavander Lilac Petal Bronzed Espresso Questa è Un'altra come quella viola Che c'ha tutti i nomi C'ha questo fogliettino dove ci sono scritti tutti i nomi Questi non ve li leggo tutti Tipo Angel Eyes Innocente Shine Aura E questi sono alcuni Celestial Questi sono i colori E c'è tipo Uno specchio enorme Ma non ve lo faccio vedere Sennò li specchia tutto Comunque c'è questo colore qui E magari questo 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 Che sono tipo bellissimi Perché sono Hanno tipo delle scaglie dentro Vi faccio vedere questo Ve lo sboccio qui Così E hanno tipo delle scaglie Sono stupendi Metto il foglietto E passiamo alla prossima Sempre di questa linea No Non di questa linea Ve le faccio vedere dopo le altre di questa linea Quando mi capitano Questa è Della Maybelline New York Praticamente ha Tre blush Questo può essere usato come un bronzer chiaro E un illuminante Super luminosi Sono Un cielo Ho appena appoggiato Da un lato Comunque Super carina Poi c'è questa di Wicon Che ho creato io Ecco Sono quelle componibili In cui si estraggono gli ombretti Tipo questo è lo U259 259 Ecco Facciamo così E c'è un nero glitterato Con tutti i riflessi Un Matte Celeste Acquamarina Un argento glitterato Un bronzo champagne Un bianco E questo qui che è bellissimo Che ha tipo dei riflessi rosa pazzeschi Che non si vede un tanto dal telefono Però Ve lo assicuro È tipo Bellissimo Ciao se si vede dal telefono Questa è la prossima Che è di Tirtio E l'ho trovata ovunque Perché è un brand Che si trova ovunque Questo In tutti i negozi In cui andate Di vestiti e tutto Tipo anche i cinesi Quindi L'ho trovata ovunque Che c'è Questi Questa palette di blush Ho preso Tra cui Questi due Non li ho mai usati E tieni molto Andavo a usare questo Che lo usavo anche come ombretto Perché è molto chiaro E almeno mi garbano i blush scuri No Non lo ho fatto Però Comunque almeno mi garbano i blush scuri Qualche volta ho usato anche questo Per qualche trucco Che trovate sul mio tiktok Dopo vi lascio Nella descrizione Vi lascio il link Comunque E questi due Non mi garbano tanto Non li ho mai usati Perché Questo è sull'aranciato E questo è un po' troppo Sui marroncino Quindi non è che mi garbino tanto Comunque Si chiama Glam A high click Poi C'è queste due Che ho comprato Questa Questa E questa Che sono uguali Non avevo presa Questa qui nuova Per mia sorella Questa qui è già usata E lo stavo usando io Poi uscirò anche questa C'è anche questo specchio enorme Sono della collezione Di quell'altra Sono super belle Soprattutto Questi colori Questi un po' scagliette Io vi faccio vedere Dell'argento In particolare Che tipo sto amando Ve lo sboccio qui Vedete com'è bello Ora non si vede tanto Tipo stupendo Ecco lo vedete Bellissimo Anche questo Hanno i nomi Come Cookie Glam Festival Grace Silent Super carini E si chiama Le color Ast Limited edition Erano Un'edizione limitata Le shadow palette Poi c'è quest'altro Sempre di questa collezione Che però E' sui toni Del rosa La Berry Velvet Che è tipo sui toni Tutta del rosa Mi ricorda qualche palette Famosa Mi ricorda Sto qui E praticamente Ora mi si attacca Allo specchio Ti pareva Praticamente Questa è la plastina Dove si sono Iconic Glass Royalty I nomi Questa l'ho usata Un po' Meno Delle altre Però comunque Ho fatto qualche trucco Con rosa Questo è Royalty Carino Non si vede molto bene Però sono carini Poi c'è questo Di Chico Milano Perché E' tipo La vita Carinissimo Super carino E praticamente Ha Un Bronzer E Tre illuminanti Questo si può paragonare Anche un blush illuminante Praticamente Qui c'è scritto tutto Come potete applicarli Per bene Senza sbagliare Ed è molto carino E ognuno ha anche Qui il proprio nome Golden Viv Gioconda Sonris Positive Attitude Con brava in inglese Però Carino Poi c'è questa Che tipo Io amo Perché il mio colore preferito È il terrestre E È di Affiano Space Blu Appunto È tutta Citani del Blu Questo verde Acqua Questo verde Militare Questi glitter Che sono tipo La vita Sembrano super morbidi E sono glitter Pressati Ma non sono come i soliti Sono tipo La morbidezza Fatta persona Cioè Quando li prendete Sembrano Anche Sembrano Dei glitter Pressati Poi c'è questo Pure Che è il mio preferito Questo Che è stupendo Bellissimo E anche No Questa non ce l'ha In noi O si No Non ce l'ha Pazienza Poi C'è Questa qui Che Tipo l'ho presa Dall'internet È la fluorescente Shadow Charm for you Fantastic beauty Che praticamente Mi è arrivata Con lo specchio Rotto Ed è stata Un'enorme truffa Perché i coriani Non stanno mai Attenti a niente Non stanno mai Attenti a niente Questi sono I colori opachi Che non ce ne è Tanti Sono un po' pochi Però c'è un sacco Di glitter Tipo questo Che è la vita Questo qui Che è la vita Ora c'è un po' Di glitter Celeste di prima Però è la vita Questa è la prossima Di Ma un po' sporca Perché è la prima Comunque che ho preso Di Revolution Pro È la prima palette Che ho avuto Non di quelle di marca Ma proprio Palette a palette Che ho avuto Ed ha dei colori stupendi Tipo questo nero E queste qui Le ho tipo Uccisi Perché ci ho fatto Un sacco di trucchi stupendi E comunque Se avete visto Prima qualcuno Nello specchio Era una mia sorella Se mi diceva una maschera Comunque C'è Tipo questi tre La velice watch Veloce Che sono la vita Perché li prendo Sempre con sta mano Non si sa Datevi li sguazzo Sono tipo la vita Si vedono bene Però sono bellissimi C'è tipo dei glitter E questo qui Tipo Questi qui Ci sono Come si dice Ecco Ecco Ma è vero Ma la parola Matte Questi matte Poi quelli shimmer Metallizzati E tutto il resto L'amo Ora ne ho ordinati Un sacco di revolution In questo periodo Mi devono arrivare Poi Passiamo Le parette piccole Questa è la cherry Ed è super cute Super carina Ha questi colori Tipo quest'oro Che è la vita Vediamo quali Dito ve lo sguaccio Tutti Tutti pieni Tipo questo Non so se si vede Comunque è bellissimo Poi colori matta E sui toni del rosso A parte questo Che è Un oro stupendo Poi sempre Di questa linea Abbiamo Questo che è L'honey L'honey palette Gialla E questa Come si può capire Come il miele È sui toni del giallo A parte questo Che dalla teglia Me lo riprende bianco Ma è un rosino Panna Però lo riprende bianco E questo È quello Che vi posso Sbocciare Di queste palette Invece Che questo È ancora più oro Di quello di prima È proprio un miele Stupendo E tutti i colori Del giallo Con uno specchietto Carinissima Ora facciamo Alle ultime due palette Questa Che è La neon E shadow palette Ehm Oddio Verde Ed è super carina È ispirata A quelle Di revolution Le neon palette E a quelle di uda E Oddio Ed è super carina Ha questo qui Vi odio Sboccio a questo In questa palette Super carina Che ha questo Volare qui Comunque Ha questo Che è tipo La vita Mi sboccia Anche questo Tipo la vita Non ve lo sboccia Bene Aspettate Non ve lo sboccia Bene Però è stupendo E poi passiamo all'ultimissima palette Che è questa qui Che è la neon E shadow palette Rosa Super carina Questi sono i colori all'interno E questi E questi Eccola qui Questa invece Vi sboccio Questi due Che sono Questo qui E questo qui E ve li sboccio Tutti e due Qui Sono uno E questo qui Che non si vede molto Però è bellissimo Molto bello Molto carino E abbiamo finito Vi prego di iscrivervi al canale Se vi va E di lasciare un like O un commento Sotto a questo video Vi amo Ciao